Ben ritrovati amici e telespettatori di Cilento Channel, un nuovo appuntamento della nostra rubrica nutrizione e benessere. Questa settimana parliamo di un alimento che probabilmente più risulta sconosciuto, ma che ultimamente sempre più si sta affermando anche nella cucina occidentale, questo perché di fatto è un alimento, un condimento tipico della tradizione invece orientale, in particolare del Giappone. Stiamo parlando del miso. Il miso in effetti è un alimento ottenuto dalla fermentazione dell'amido ad opera di microrganismi fungini, lattobacilli, lieviti, semi di soglia gialla e sale marino. È un alimento di una consistenza cremosa, spalmabile, che per utilizzo può essere assimilabile al dato da cucina, ma solo per utilizzo, perché in effetti viene spesso impiegato come condimento di zuppe e salse. Ne esistono di diverse varietà, abbiamo il miso, il miso di soia e il miso d'orzo. A seconda inoltre della quantità di soia che andiamo a utilizzare, lo possiamo classificare come miso bianco e miso rosso. Il miso bianco apportano all'incirca 190 calorie. Contiene ovviamente anche sali minerali, soprattutto sodio, ma anche potassio, fosforo, magnesio, vitamine del gruppo B e vitamina C. È un alimento che per le sue caratteristiche, quindi lieviti, probiotici, eccetera, potremmo definire in qualche modo un alimento vivo. Non è particolarmente calorico, comunque ha un apporto calorico medio e si caratterizza per l'ottimo apporto di proteine vegetali e aminoacidi essenziali. Si caratterizza per un'ottima digeribilità, in quanto gli zuccheri e le proteine vengono predigerite già nella fase di fermentazione. Contiene l'ecitina di soia, quindi aiuta a prevenire le patologie cardiovascolari allontanando il colesterolo dalle arterie. L'apporto di proteine vegetali e di aminoacidi essenziali è fondamentale per chi, ad esempio, segue un'alimentazione di tipo vegetariana o vegana. È ricco anche di antiossidanti, in particolare è una molecola che si chiama genisteina. È oggetto di studio perché sembrerebbe, almeno in vitro, inibire la proliferazione delle cellule tumorali. Infine, essendo molto ricco di lattobacilli, quindi probiotici, lieviti, eccetera, ha un ottimo impatto positivo sulla flora batterica intestinale. Ovviamente, come tutti gli alimenti, come abbiamo imparato ormai nelle varie puntate della nostra rubrica, ci sono anche delle controindicazioni. Per quanto riguarda il miso, queste ultime riguardano soprattutto per chi soffre di ipertensione, in quanto è molto ricco di sodio. Altre controindicazioni possono riguardare, per esempio, chi è allergico alla soia e ai suoi derivati. È sconsigliato in caso di candidosi, perché comunque l'apporto batterico del micromicrobico del miso potrebbe dare un nuovo stimolo alla candida. E poi anche chi ha una carenza di vitamina B12, perché mentre spesso viene considerato quest'alimento come un alimento ricco di vitamina B12, in realtà dobbiamo dire che alcuni componenti della soia potrebbero inibirne l'assorbimento. E infine, un'ultima attenzione è quella dell'interazione con alcuni farmaci per la tiroide, la levotiroxina. Quindi chi prende questi farmaci è meglio evitare il consumo di questo alimento, che come detto in cucina viene utilizzato soprattutto per quanto riguarda i condimenti e quindi per i di dare sapore, insaporire zuppe o salse. Vi rimando per altre informazioni, per approfondire le caratteristiche di questo alimento, all'articolo che trovate sul sito e sui social di Cilento Channel, così come sulla mia pagina Facebook, Studio Nutrizione e Benessere. Vi invito come sempre anche a scrivere un'email a nutrizionerici.it per suggerire argomenti o per fare domande sugli argomenti già trattati e ci rivediamo la settimana prossima in un nuovo appuntamento della nostra rubrica Nutrizione e Benessere solo sul Cilento Channel. Ciao!